Quest'anno abbiamo avuto questo caso a Maserà, vicino qui a noi, e ci siamo già attivati per questo. Io credo che già a questo punto della stagione siamo messi veramente bene. È scattato immediatamente il piano sfalci straordinario lungo gli scoli che rientrano nell'area di competenza del bacino del Consorzio di Bonifica a Bacchiglione. Da poche tre settimane fa a Maserà si è verificato il primo caso di West Nile a livello provinciale, il Consorzio ha subito avviato i lavori decisi in un tavolo tecnico regionale. Ci siamo impegnati a fare uno sfalcio supplettivo in tutte le zone abitate, quindi noi siamo già partiti con questo sfalcio, che è anche un costo importante per il Consorzio, però era un impegno che ci eravamo presi con i cittadini. Intanto prosegue anche l'opera di disinfestazione da parte del Comune di Maserà che è intervenuto nei parchi e nei luoghi pubblici. Il Consorzio di Bonifica a Bacchiglione invita i privati a sfalciare i tratti di scoli di proprietà. Anche i privati si devono da fare, non possiamo permetterci che ci siano degli acquitrini o delle rive impenetrabili con dei fossati che non vengono curati, soprattutto quelli privati. Se tutti ci diamo una mano sicuramente abbassiamo veramente questa soglia di pericolo.